La trompa d'aria che si è verificata nella giornata di sabato a Licata e che ha provocato ingenti danni alle attività agricole e industriali presenti nel territorio ha lasciato un'enorme quantità di rifiuti speciali prodotti dalla calamità naturale. Ed è per questo che il primo cittadino dedicato a Angelo Cambiano ha emesso un'ordinanza contingibile ed urgente al fine di assicurare il regolare e tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dei rifiuti presenti nel territorio comunale per garantire la tutela della salute e dell'ambiente. Con propria ordinanza il sindaco Cambiano ha lo scopo di accelerare il tempestivo svolgimento delle operazioni di sgombero dei rifiuti speciali e quindi sfabbricidi materiali linei e plastici, acciaio, resina, vetro e alluminio prodotti dalla calamità naturale. Ha disposto il deposito temporaneo degli stessi nel centro comunale di raccolta ubicato all'interno dell'area industriale dell'Exalos in contrada piano Bugiades dando mandato a legale rappresentante della dedalo ambiente Rosario Miceli di provvedere al diposito dei rifiuti previa eventuale operazione di selezione, trattamento e di conferimento dei rifiuti non assimilabili a quelli solidi urbani ai centri autorizzati attuando le procedure che garantiscano il rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente. Il rappresentante legale Miceli dovrà altresì provvedere alla verifica dei rifiuti in ingresso impedendo l'accesso di rifiuti speciali pericolosi. Sarà cura della polizia municipale dedicata a vigilare per far rispettare l'ordinanza sindacale che porta la firma del sindaco. L'ordinanza fa seguito alla relazione inviata da parte del dirigente del dipartimento urbanistica con la quale cita la quantità di materiali presenti sul territorio e la verosimile possibilità che possa ancora aumentare nei prossimi giorni. Si impone di intervenire anche attraverso l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti affinché siano individuate aree di raccolta anche temporane, ove conferire quantità di materiale per poi essere indirizzate verso il recupero e lo smaltimento. In tal senso si rende utile l'utilizzo temporaneo del centro di raccolta comunale. Il provvedimento è stato affisso all'albopretorio nonché sul sito internet del Comune.